Ciao amici amiche sono Lucia e benvenuti in questo nuovo video e ben ritrovati in questo nuovissimo video dopo che sono scomparso per molte settimane innanzitutto vi volevo scusare con voi per questa essenza che è durata per un po' di settimane perchè ragazzi io non avevo mai che video da caricare quindi alcuni video li devo ancora preparare e altri invece un altro motivo è che in questo ultimo periodo come state vedendo perchè i video uscivano ogni settimana e come state vedendo ragazzi dal canale in questo periodo non mi sta venendo voglia di caricare un video perchè ragazzi io non in questo periodo non mi sta venendo voglia di editare di caricare su youtube perchè allora io edito di ereditarci metto un bel po' e qui un po' la cosa mi annoia io lo so un po' è una retta da rifare ma non ci posso fare niente poi ovviamente devo preparare il video, lo programma tramite il telefono ma in questo periodo non mi sta venendo voglia di registrare il video o di fare un altro perchè ragazzi man mano cioè del canale non mi sta un po' piacendo come volta perchè come in passato in passato facevo sempre video mamma mia avevo più voglia in passato che adesso in poche parole in questo periodo non mi sta venendo voglia di registrare e caricare un video e allora mi sono un po' fermato e durante questa pausa ho riflettuto anche a lungo per quanto riguarda il canale e vi dico che il canale avrà dei cambiamenti dei cambiamenti molto importanti allora voglio solo dire che per il canale non tratterrà più di videogiochi in generale in generale come minecraft, roblox e altri che portavo in passato allora perchè ragazzi, perchè non ho deciso, ho preso questa decisione è una decisione che molti di voi si rimanano malissimo e allora ora vi spiego il motivo perchè, perchè ragazzi io non ho più quella voglia di un tempo di giocare un po' ai videogiochi gli unici videogiochi che gioco, la maggior parte è FIFA e non so più cosa portare come serie per quanto riguarda i videogiochi non so più fare un po' i videogiochi ragazzi mi hanno stancato mi hanno stancato infatti una persona ragazzi quando cresce matura e cambia e quindi io sono cambiato, mi sento una persona cambiata e per quanto riguarda il canale i videogiochi non ci saranno più e l'unico, l'unica cosa che ci sarà nel canale allora, poi io tornerò a parlare di calcio, del calcio ovviamente perchè il calcio è una cosa che mi piace cioè, da quando ero ragazzino da quando ero bambino e a me piace moltissimo il calcio e voi mi state dicendo l'usero a me non piace il calcio l'usero deve non portare questo e chissene ragazzi, chissene a me una cosa piace io la porto lo stesso perchè una cosa mi piace allora, questo canale in poche parole parlerà del Napoli perchè ragazzi, chi non lo sape chi non lo sapesse io sono un grandissimo tifoso del Napoli io tifo Napoli io vivo vicino a Napoli qua, un po' proprio vicino a Napoli ma una cittadina un po' non lontana da Napoli io tifo Napoli e quindi da dalla prossima settimana torneranno i post partita i post partita del Napoli solo parlano del Napoli purtroppo non delle altre squadre perchè perchè quelle altre squadre giocano sabato e domenica e quindi per fare il recap io lo faccio di lunedì e quindi io non posso quindi batterò solo del Napoli e delle notizie che riguardano il Napoli e anche ovviamente l'unico videogioco che rimarrà sarà FIFA infatti la carriera allenatore sarà sempre presente sul mio canale quindi la carriera rimarrà e quindi noi continueremo l'avventura con il nostro Gino la mucca e fare oltre alle notizie del Napoli ovviamente faremo anche altre cose ovviamente che man mano arriveranno e niente ragazzi questo è come vi volevo parlare so che questa notizia non vi piacerà questo video non sarà neanche editato sarà giusto legato così quindi il sarà così ragazzi da questo canale parlerà solo di Napoli quindi cambierà l'immagine e il nome il nome sarà sempre l'user ma ci aggiungerò qualcosina e quindi dal basso del tutto noi ci vediamo al prossimo video noi ci vediamo cosa qui io vediamo ciao ciao ciao